A beneficio dei piccoli centri italiani, al Parlamento viene comunicato l'arrivo di fondi per salvaguardare alcune regioni dal rischio di dissesto idrogeologico. Presto sarà garantita meno burocrazia e aiuti consistenti economici. In Italia, infatti, quasi l'80% del territorio è a rischio, mentre in Molise la percentuale sale addirittura al 100%. Per tale motivo risultano soprattutto oggi fondamentali le norme di tutela contenute nella legge Semplificazioni, che prevede risorse certe meno burocrazia e interventi rapidi nelle zone più colpite, come appunto la Regione. La Semplificazioni va incontro ai piccoli comuni che non riescono a realizzare progetti cantierabili per la tutela del territorio. Con la nuova missiva si darà la possibilità agli enti di anticipare fondi di cassa per avere liquidità accorciando i tempi per gli appalti. Inoltre, con delibera cipe, è stato permesso anche ai comuni, che non riescono ad affrontare questa mole di lavoro, di avvalersi di società in house dal Ministero come anche per le progettazioni esecutive. Al momento, per interventi contro il dissesto, sono disponibili oltre 7 miliardi di euro. A breve potranno quindi essere realizzati anche lavori rapidi e con tempi brevi.